La disuguaglianza nord-sud colpisce l'infanzia. Un bambino meridionale ha un rischio del 70% più alto di dover cambiare regione per curarsi e il grido d'allarme dei pediatri SIP, Società Italiana di Pediatria. Secondo due studi della SIP, la Società Italiana di Pediatria, uno pubblicato su Italian Journal of Pediatrics che ha valutato l'entità della migrazione sanitaria dei minori e l'altro su Pediatria che ha misurato in base ai dati Istat 2018 i tassi di mortalità neonatale e infantile. Un bambino meridionale ha un rischio del 70% più alto di dover cambiare regione per curarsi rispetto a uno del centro nord soprattutto se affetto da una patologia complessa. Mentre esiste una probabilità del 50% più alta di morire nel primo mese di vita rispetto a un suo coetaneo nato a nord. Dal primo studio si evince che nel 2019 i minori residenti del mezzogiorno sono stati curati in altre regioni più spesso rispetto ai residenti del centro nord, l'11,9% contro il 6,9%. E i numeri crescono per i ricoveri ad alta complessità, il 21,3% contro il 10,5%. Nel secondo report emergono i costi della migrazione sanitaria che dal mezzogiorno verso altre regioni è costata oltre 103 milioni di euro e oltre l'87% ha riguardato la mobilità verso gli ospedali del centro nord. In Italia la percentuale di mortalità neonatale e infantile è tra le più basse del mondo. In Italia nel 2018 sono morti entro i primi 12 mesi di vita 1.266 bambini, ma con una mortalità più alta in Sicilia, Campania e Calabria. Così un bambino del sud ha un rischio di morire nel primo mese di vita del 50% più alto rispetto a uno del nord e le differenze aumentano se figlio di genitori stranieri. Il primo autore di entrambi gli studi, Mario De Curtis, ha affermato che si tratta di differenze di mortalità inaccettabili, un programma di contrasto alle disuguaglianze in sanità è non più rimandabile.